Una lussuosa villa, 4 appartamenti, 2 magazzini, 2 capannoni industriali, 2 imprese operanti nel settore della produzione, commercio e distribuzione di calzature, 5 locali commerciali, 18 autovetture anche di lusso e 28 rapporti di conto corrente bancario. E' questo l'ingente patrimonio accumulato nel tempo da Domenico Quacquarelli, 61enne pregiudicato di Andria, attivo nel racket dell'usura e dell'estorsione. I carabinieri del comando provinciale di Bari stanno dando esecuzioni ad un provvedimento di confisca di beni emessa ai sensi della normativa antimafia dal Tribunale di Trani su proposta della locale Procura della Repubblica, che interessa la città metropolitana di Bari e le province di Barletta, Andria Trani, Foggia e Lecce. Il provvedimento scaturisce da un'articolata indagine patrimoniale sviluppata dal nucleo investigativo del reparto operativo che ha permesso di documentare come a fronte degli ingenti prestiti, elargiti in favore di numerosi debitori, il 61enne vi applicasse tassi di interessi usurari nell'ordine del 15% mensile, pretendendo nella liquidazione con violenza o minaccia in caso di insolvenza e realizzando così il proprio illecito profitto successivamente investito in beni, ovvero attività economiche e produttive. L'attività investigativa, documentato come due società, beni immobili ed immobili, rientrassero nella disponibilità del Coacquarelli a fronte dei modesti redditi dichiarati e sebbene in alcuni casi intestati a diversi suoi congiunti ed alcuni prestanome, raggiungendo un valore complessivo stimato di quasi 100 milioni di euro.